Al congresso ASCO Geniturinari Cancer Symposium di quest'anno sono stati presentati l'aggiornamento dei dati del studio Kenote564, che è lo studio che testava il ruolo di Pembrolizumam verso placebo come trattamento adiuvante per i pazienti operati per tumore del rene. E questo studio sappiamo anche che includeva una piccola quota di pazienti che avevano ricevuto una metastasectomia entro un anno dall'intervento chirurgico sul tumore primitivo. Sappiamo anche che questo studio è uno studio positivo in quanto l'end point primario che era la Disease Free Survivor, era stata già riportata come statisticamente e clinicamente significativa la prima interim analysis con una riduzione del rischio di progressione o morte per tumore del 32%, quindi una zerrescia di 0.68. Rimanevano però in bilico i dati sul sopravvivenza e proprio l'aggiornamento di quest'anno ci ha dato questo importantissimo dato. Nello studio sono stati randomizzati 996 pazienti con un rapporto 1 a 1 a ricevere Pembrolizumab alla dose di 200 mg ogni 3 settimane per un anno oppure il placebo. Ricordiamo che questo studio ha ruolato pazienti definiti a rischio intermedio alto, ovvero erano i PT2, G4 o T3, i pazienti ad alto rischio che erano un 8% ed erano i T4 o i pazienti N positivi e poi un 5% di M1 NED. Va da sé che i pazienti a rischio intermedio ed alto erano il gruppo più importante di pazienti a ruolato in uno studio, come capita di vedere nella pratica clinica. I dati presentati quest'anno vengono dopo un follow up mediano di 57.2 mesi e dopo che sono stati raggiunti circa il 70% di eventi per l'analisi finale di OS, quindi è un dato solido. E che cosa ci dice? Questo studio ci mostra per la prima volta come sia possibile in realtà aumentare la sopravvivenza nel tumore del rene grazie ad un trattamento immunoterapico, raggiungendo un azzar ratio di 0,62 con intervallo di confidenza che va da 0,44 a 0,87 e una P che è statisticamente significativa e al di sotto del valore di P atteso per questa interim analysis. Cosa è inoltre importante? Questo dato è un dato solito perché se andiamo a vedere i vari sottogruppi il beneficio è evidente in tutti i sottogruppi ma soprattutto poi nel sottogruppo più numeroso che come abbiamo detto sono quelli a rischio intermedio alto che rappresentano l'85.6% dei casi. E l'altro elemento è che questo studio è anche credibile da un punto di vista pratico perché se andiamo a vedere le linee successive l'80% dei pazienti aveva ricevuto trattamenti successivi, quindi come a dire che la popolazione era stata individuata ad aggiustamente una popolazione ad alto rischio perché poi questi pazienti sono progrediti, quando progrediti hanno effettivamente ricevuto delle terapie e nel braccio di controllo il 70% dei pazienti ha ricevuto l'immunoterapia verso 41% nel braccio pembro mentre i TKI sono stati ampiamente utilizzati nel 90% dei pazienti trattati con pembrolizoma e nell'85% dei pazienti interolati nel braccio placebo. Quindi questo ci rende conto anche dell'idea come effettivamente un trattamento in una fase molto precoce sia in grado di ritardare la progressione e quindi aumentare la disease free ma soprattutto il dato di overall survival. Questo studio ha segnato un momento storico nel tumore del rene, sappiamo che vi erano già altri tre studi che hanno cercato di testare il ruolo dell'immunoterapia come terapia adiuvante, questi si sommano ad altri studi che hanno cercato di testare il ruolo dei TKI come terapia adiuvante nel tumore del rene e poi in anni ormai molto passati anche citochine, chemioterapia, ma nessuno di questi studi è stato mai in grado di dimostrare un vantaggio in termini di sopravvivenza. Quindi per la prima volta abbiamo come uno studio e in particolar modo l'immunoterapia con pembrolizoma sia stata capace di ritardare la progressione e aumentare soprattutto la sopravvivenza diventando così il vero standard terapeutico per il trattamento dei pazienti ad alto rischio dopo intervento chirurgico.